Buongiorno. Buongiorno, questo è il Buongiorno di Mattino 6 per oggi, lunedì 4 gennaio. Come sempre iniziamo ricordando il Santo del Giorno, oggi si ricorda Sant'Angela da Foligno. Ci andiamo a vedere subito la sua storia. Dopo essersi recata ad Assisi ed aver avuto esperienze mistiche, avviò un'intensa attività apostolica per aiutare il prossimo e soprattutto i suoi concittadini affetti da lebra. Una volta morti, marito e figli diede tutti i suoi averi ai poveri ed entrò nel terzo ordine francescano. Da quel momento visse in modo cristocentrico, ovvero tramite l'amore, giunge all'identica mistica con Cristo. Per i suoi scritti assai profondi è stata chiamata maestra di teologia. Il 3 aprile del 1701 furono concessi, messa ed ufficio proprio in onore della Beata. E infine il 9 ottobre 2013 Papa Francesco, accogliendo la relazione del prefeto della congregazione delle cause dei Santi, ha iscritto Angela da Foligno nel catalogo dei Santi, estendendone il culto liturgico alla Chiesa Universale. L'etimologia del suo nome deriva dal greco e significa messaggero. Per questa giornata da parte nostra gli auguri a tutti coloro di nome Angelo e anche a coloro di nome Angelo. E allora andiamo a vedere i titoli di apertura dei quotidiani e iniziamo dalle pagine del centro. Le targhe alterne anche per le moto. Pescara si comincia il 12, martedì circolano le pari, giovedì le dispari. E poi a centropagina mamme, papà e bambini mettono in scena il presepe vivente, festa al Parco Cocco a Pescara. E poi l'incompiuta in comune, Pescara trovati i soldi per l'ascensore della vergogna. Vandali a Francavilla distrutto il parco dei disabili. Il calciomercato sfuma piccolo e il Pescara va su Pasquato. E poi i 10 omicidi in Abruzzo senza colpevoli. Ora vediamo i titoli di apertura del messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo. In apertura c'è il piano spiaggia, tensioni a Pescara, trasformare in bungalow le cabine per accrescere la recettività estiva. Il PD spaccato, commissione anticipata tra imbarazzo e barricate, opposizioni pronte a dare battaglia. E poi domani al via i saldi la pioggia beffa la fiera di Teramo, drogato causa incidente e scappa. Poi torna indietro, la maxi carambola in via Panella, giovane convinto dal padre a presentarsi alla polizia. E poi rivive il centro l'aggregato di Palazzo Federici, l'Aquila, così rinasce il cinema imperiale. Di spalla Circi e la 1100 rimessa nuovo, noleggio gratis per chi si sposa. Di taglio alto ad Avezzano di Pangrazio ritira le deleghe a Presutti via al Rimpastino. E poi calcio eccellenza che rimonta sul Pineto, San Salvo vince la Coppa Italia. Il basket e volley della Serie A2, colpo Proger, Fortitudo, KO e Roseto sfuma il sogno. Questi dunque i titoli di apertura prima di sfogliare le pagine dei quotidiani, come sempre il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. Ariete In questa giornata sarete ipersensibili e un po' litigiosi. Evitate di pretendere l'impossibile. Nonostante la dimensione piacevole dello stare in compagnia, rischiate di sollevare un mare di polemiche. Toro Farete bene a trascorrere qualche ora fuori dal solito ambiente, dagli impegni di sempre per addentrarvi in situazioni che vi diano nuovi stimoli. Non scartate a priori una proposta interessante. Serata magica per quanto riguarda l'amore. Potreste essere tentati da golose compensazioni. Gemelli Grazie al trigono lunare, razionalità ed emozioni oggi viaggiano su binari paralleli, dando luogo ad una piacevole sensazione di completezza. Nel privato sarete disposti a voltare definitivamente pagina riguardo ad una vecchia incomprensione. Cancro Anche se ritenete di essere nel giusto, evitate di affrontare temi delicati in famiglia, in particolare se riguardano questioni economiche. Soprattutto imparate a mediare. Far valere a tutti i costi il proprio punto di vista sarebbe inutile. Leone Porterete avanti gli impegni senza fretta, concentrandovi per cercare le soluzioni migliori. Prendete parte ad un'iniziativa culturale. Se con il partner eviterete di fare la voce grossa, l'amore oggi sarà la vostra tenera consolazione. Vergine Avete un sogno? Pensate che sia realizzabile? Ebbene, finché non proverete a tradurlo in realtà, non lo saprete. È giunto il momento di verificare la fattibilità di ciò che avete in mente. Potreste avere una sorpresa. Se avete una relazione affettiva importante, valorizzate l'intesa col partner. Bilancia La voglia di ampliare i vostri orizzonti culturali o di dedicarvi a nuovi hobby e interessi è alimentata dalla luna, che stimola la vostra curiosità intellettuale. Abbandonate i vecchi abiti e la vecchia immagine per crearvi un look tutto nuovo. Scorpione Siete in una forma fisica non brillante e in una situazione difficile nella sfera familiare. Otterrete l'aiuto che vi serve, a patto, di mettere da parte l'orgoglio e chiedere una mano a chi può risolvere molti problemi. Serata sotto tono, rinuncerete agli impegni mondani. Sagittario Una luna amica vi assicura divertimento, momenti felici e spensierati con le persone vicine e forse qualche incontro interessante sul piano sentimentale. Con la forza che avete potete smuovere le montagne e trascinare gli altri dove volete, ma fatelo subito. Capricorno Giornata no, il che significa intoppi, problemi e ritardi che ostacoleranno i progetti del fine settimana, ma anche tensioni e litigi in amore. Rilassatevi e cercate di recuperare l'armonia interiore e tutti i pensieri negativi spariranno come per incanto. Acquario Questo giorno si accompagnerà a situazioni abbastanza movimentate per quanto riguarda la vostra vita professionale. Nel pomeriggio ritagliatevi del tempo per la persona amata, per il riposo e per il relax. Ottima la sfera sentimentale. Pesci Non è il momento di sfidare la sorte, di lanciarvi in affari che non vi convincono del tutto, di fare prove di forza con la persona amata. Rimandate le vostre decisioni a momenti più facili. Il relax e le giuste ore di sonno vi faranno ritrovare il sorriso. Dopo il Consiglio delle Selle iniziamo a sfogliare le pagine del centro e si apre con la tensione nel golfo. Riad rompe le relazioni con Teheran. Dopo l'esecuzione di Nimiral Mimr, la Yatollah, Kamenei si scaglia contro l'Arabia Saudita. Subirete la giustizia, la vendetta divina. La Cis Giordania per il rogo di Duma presi e incriminati due estremisti ebrei. Il processo è aperto dopo cinque mesi di indagini e decine di interrogatori condotti dagli 007 nello Shin Bet. Nell'incendio morì un'intera famiglia palestinese. E poi la crisi economica. L'Eurostat dice l'Italia peggio dei big dell'Unione Europea. Aumenta l'indice di fiducia ma la produzione arranca e l'occupazione non cresce. Il piano Juncker procede a rilento. E poi i saldi, la partenza buona ma nessuna impennata. Ancora Ferrari da oggi quotata in borsa senza FCA. Separazione completata, la casa di Maranello pronta al debutto in piazza affari. E ci sarà anche il Premier. Le banche, il crack, richieste per 700 milioni. Le prime stime per tre istituti di credito. Il governo promette rapidità. E poi proseguiamo sempre sulle pagine del centro. Il doppio esposto al Codaconsa. Si parla di scontro politico per il caso di Capodanno. Per il doppio esposto. L'associazione si rivolge alla Procura e alla Corte dei Conti per i maxi costi della trasferta. Il DG Campo dall'orto prepara il cambio delle direzioni di rete e impazza il toto nomine. E poi Pannella manda a Mattarella un dossier sulla giustizia in riferimento anche al discorso del capo il primo dell'anno. Brescia ha tre inchieste sulla mamma morte in un letto di ospedale. Il marito dice voglio la verità su mia moglie e la nostra bimba. Oggi funerali. Al lavoro gli ispettori del ministro Lorenzin. Si parla anche di smog. La pioggia pulisce Roma e Milano. È il PM10 sotto la soglia d'allarme a Napoli. Revocato il blocco delle auto. Napoli ucciso al posto di un boss nelle cronache. E poi Londra rovinato da SMS a una diciassettenne il laburista nemico di Corbyn. E poi apriamo la pagina dedicata all'Abruzzo. In apertura gli interventi per il Sud. Il masterplan in agenda 53 progetti per quasi 900 milioni. La giunta regionale vara la redazione definitiva del piano. E nei prossimi giorni la firma congiunta con il governo. E poi gli intersindacati. L'intersindacale sanitaria. La sanità chiarezza sul riordino della rete ospedaliera privata. Questa è la richiesta. E poi c'è il piano per regolamentare le cave. Concluso il lavoro di Abruzzo sviluppo. Mazzocca tra gli obiettivi una migliore sostenibilità ambientale. E allora vediamo si parla di un piano redatto la prima volta nel 1978. E poi come dichiarato da Mazzocca mai attuato. Ed ecco che c'è l'annuncio per il 2016. E' pronto il piano delle cave della Regione. Lo annuncia il sottosegretario regionale con Deleca alle cave. E' torbiere Mario Mazzocca con un provvedimento del 9 ottobre scorso. L'esecutivo regionale ha risolto tutte le pendenze relative ai precedenti affidamenti per la redazione del piano cave. Ed ha contestualmente riaffidato l'incarico alla società Abruzzo sviluppo. E quest'ultima il 30 dicembre scorso ha trasmesso il piano regionale per le attività estrattive. Il Prae. Un risultato raggiunto grazie alla stretta collaborazione tra la detta struttura operativa e il servizio regionale preposto. E allora andiamo avanti perché il centro fa un primo piano su tutti i casi irrisolti. Qua si parla di 10 casi. Si parla di omicidi che non sono stati mai risolti. Ci sono due pagine dedicate proprio a questo. E poi apriamo la pagina di Pescara perché anche qui si parla delle misure contro l'inquinamento. Si parla di targhe alterne. Si va avanti di vieti anche per i motorini. E c'era stato l'annuncio del vice sindaco di Pescara Enzo Del Vecchio quando è stato annunciato dal 12 l'avvio delle targhe alterne. E allora vediamo in dettaglio quali saranno le restrizioni per il traffico. Si comunica che l'avvio sarà il 12 gennaio. Questo l'avevamo già annunciato. Andrà avanti i tre mesi. Quindi fino a marzo si prevede il blocco del traffico in base al numero relativo pari o dispari. Il riferimento è all'ultimo numero della targa. I giorni di stop saranno il martedì e il giovedì. E gli orari nei quali non si potrà circolare saranno dalle 9 alle 13. Dalle 15 alle 18. Chi è interessato dai divieti? Tutti i veicoli a motori compresi anche motori e ciclomotori. E chi può circolare il comune prevede delle deroghe per particolari categorie come i medici, i farmacisti, i volontari che fanno assistenza, i conducenti che effettuano consegne, gli operatori tv. E l'elenco deve ancora essere predisposto. E allora c'era stata una notizia, l'avvio doveva essere quello del 5 gennaio. Quindi domani poi c'è stato invece un cambiamento, è slittato di una settimana per problemi organizzativi. Da qui era nata anche una polemica dell'opposizione verso l'amministrazione, dove si pensava che fosse stato posticipato per agevolare i saldi con avvio proprio per il 5 gennaio. Allora noi abbiamo ascoltato proprio Enzo Del Vecchio, vediamo. Targhe alterni a Pescara a partire dal prossimo martedì 12 gennaio e non più dal 5, come annunciato precedentemente. La notizia viene ufficializzata insieme a quella che il provvedimento andrà avanti per tre mesi, anche in caso di piogge. Martedì giornata dedicata alle targhe pari e il giovedì solo le dispari. Assumeremo un provvedimento che vuole andare incontro a due esigenze. Una quella di combattere l'inquinamento atmosferico attraverso la riduzione delle emissioni delle polveri sottili, sia per quanto riguarda il traffico veicolare ma anche per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento. L'altro ridurre lo stesso traffico veicolare che comunque è una componente importante e negativa per quanto riguarda la vita nella città di Pescara. E poi una polemica a margine. Il centrodestra accusa l'amministrazione di aver posticipato di una settimana l'avvio del provvedimento per non intralciare i saldi e Del Vecchio smentisce l'accusa. Devo dire che è assolutamente infondata. Predisporre tutto l'occorrente, da quelli che sono i piani per le linee urbane, da quelli che sono i provvedimenti che devono essere messi, da quella che è la comunicazione che bisogna fare. Perché senza una comunicazione efficace e efficiente rischiamo più disagi di quanti vogliamo evitarne. Quindi nessun escamotage per salvare questa o quella organizzazione. Assolutamente una riflessione di buonsenso che è venuta dal tavolo. In generale tutti quanti hanno detto, Assessore, guardi bene che lei non ce la fa a partire dal 5 perché è una data troppo ravvicinata. Ora vediamo quali sono stati le rilevazioni fatte nel primo giorno dell'anno proprio sulle micropolveri a Pescara. E allora nello specchietto del centro ci sono alcuni luoghi come Piazza Grue. Si parla di microgrammi per metro cubo. 49 quindi in vetta Piazza Grue, poi il Teatro d'Annunzio, poi via Firenze che addirittura supera entrambe. E poi via Sacco, infine via Lebovio. E poi ci sono le proposte del WWF, dicono più mezzi pubblici per ridurre lo smog. Ci spostiamo e si parla di filo via, sarà completata, sono già pronti i 16 milioni e a dirlo è Sospiri. Lorenzo Sospiri, rappresentante regionale di Forza Italia. La filo via sarà completata e il Consiglio regionale nella seduta a fiume sul bilancio del 30 dicembre scorso ha approvato un emendamento al documento di economia e finanza 2016-2018 con il quale è stata prevista la riprogrammazione dei fondi per il completamento della metropolitana di superficie che si dovrà estendere tra Pescara e Montesilvano, secondo e terzo lotto, fino all'aeroporto e a Francavilla. E a rivelarlo è stato il capogruppo di Forza Italia. Questo arriva dopo che per diverso tempo si era parlato del destino della filo via proprio per il fallimento della ditta produttrice dei mezzi che avrebbero dovuto essere messi a disposizione dei cittadini. E poi la Giunta trova i soldi per il lavoro all'ascensore. Fermo da dieci anni, l'impianto all'interno del Comune è rimasto un'incompiuta dal 2005. Mancano anche le porte e ora l'amministrazione è riuscita a reperire 70 mila euro per completare finalmente l'intervento. Di spalla la salmonella vongole vietate tra Pescara e Francavilla. E poi il sansificio fermato per problemi tecnici. Ed ecco l'atto con cui la Procura ha revocato per un giorno l'autorizzazione all'azienda di Via Torretta. E allora andiamo a leggere. Il sansificio di strada vicinale Torretta è stato fermato per un solo giorno, non per il superamento dei limiti dell'emissione dei fiumi, ma per alcuni accorgimenti tecnici mancanti e quanto emerge leggendo l'atto della provincia redatto dal responsabile del servizio, Antonello Colantoni. E invece il sansificio era stato al centro delle polemiche proprio per le emissioni. E poi di Spallace Erbo il piano spiaggia consente di ampliare gli stabilimenti. Di taglio basso parla l'ex vicesindaco di Pescara, Berardino Fiorilli, che critica la pista di pattinaggio. Piazza Salotto trasformata in Casba. E poi continuiamo a scorrere le pagine del centro e ci spostiamo. I furti al mercato, arrivano i cancelli contro i ladri, i piazzamuzzi, bloccati anche gli spazi invasi dagli ubriachi. Ma i commercianti protestano, paghiamo canoni troppo alti. E poi parte un corso per diventare gelataglio, questo di Spalla. Tra le manifestazioni delle festività, eccola qua, una mamma, papà e 50 bambini, il parco diventa un presepe. La festa all'ex caserma Cocco con il gemellaggio di due parrocchie, un momento di comunione tra i figuranti e con il pubblico. E poi di taglio basso la molvita riparte con le casalinghe. Dopo il Capodanno, festa della Befana con la sfilata tra Catti, Sark, Nettuno e Riders. Piano da 400 mila euro per salvare il centro Trisi. Montesilvano e il Comune presenta un progetto al Coni e chiede i fondi. L'obiettivo è costruire un ristorante, aprire una sede della medicina, dello sport. E poi sempre a Montesilvano la BCC fa il regalo di Natale al Comune. Sono pronti due defibrillatori. La protesta dei radicali parte lo sciopero della fame per la Grande Pescara. Sciopero della fame per difendere la fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore. Ed è questa la protesta avviata da Alessio Di Carlo, il segretario dell'Associazione Radicali Abruzzo. Mentre il progetto della Grande Pescara resta ancora sotto l'esame della Commissione della Regione. Proprio così sabato è stato annunciato l'avvio nella mezzanotte dello sciopero della fame proprio per chiedere il rispetto della volontà di tutti coloro che si sono recati alle urne per votare in merito alla fusione di tre comuni al fine di realizzare la cosiddetta Grande Pescara. Noi ci eravamo, vediamo. L'annuncio è quello dello sciopero della fame a partire dalla mezzanotte di oggi. A farlo sono i rappresentanti dei radicali abruzzesi che protestano contro il non rispetto della volontà espressa con il voto a favore della fusione dei tre comuni Pescara, Montesilvano e Spoltore. La Grande Pescara resta un'utopia. Dunque ci troviamo dinanzi alla maggioranza dei cittadini di Spoltore, di Montesilvano e di Pescara che chiede di fondersi in un unico comune. Io ritengo che questo referendum, benché nato con finalità consultive, oggi abbia una valenza che è politicamente invece obbligatoria, vincolante per il Consiglio regionale. Naturalmente alla politica resta la facoltà, direi l'obbligo, di determinare in che modo questa fusione dovrà essere regolamentata. Ma sulla circostanza che i tre comuni debbano fondersi, credo non si possa più procrastinare la scelta. Una grave mancanza di democrazia spiegano i radicali che annunciano lo sciopero della fame ad oltranza fino ad un concreto intervento della regione. Si è arrivati vicini alla decisione, adesso il provvedimento è tornato in commissione, sperando forse di rimandare alle calende greche la definizione della faccenda. Noi riteniamo che non si possa più aspettare, non si possa più tollerare. La democrazia non può aspettare, non può soprattutto essere presa in giro la volontà dei cittadini. Ha detto che sarà uno sciopero della fame ad oltranza, quindi chi dovrà intervenire per bloccarlo? Dovrà intervenire il Consiglio regionale, approvando, come le dicevo, o comunque dando un segno concreto in quella direzione, questo tipo di provvedimento. Ora invece ci fermiamo e parliamo di meteo, di Abruzzo e meteo, e lo facciamo con il nostro esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, intanto gli auguri di un buon inizio anno anche per te. Noi ovviamente ci preoccupiamo di previsioni meteo, perché era stato annunciato l'arrivo del maltempo e anche il freddo e qualche nevicata. C'è stato l'avvio anche in Nord Italia, perciò la domanda è cosa succederà nei prossimi giorni in Abruzzo. Francesca, per quel che riguarda il Nord Italia è una situazione diversa, perché comunque da noi invece le perturbazioni atlantiche non portano il freddo e la neve comunque a bassa quota. Portano comunque, fortunatamente, come avevamo annunciato già nei giorni scorsi, a un deciso rimescolamento delle masse d'aria nei bassi strati, perché le perturbazioni sono precedute da venti, dai quadranti meridionali, che poi vengono seguiti da un rinforzo dei venti settentrionali, un po' come è accaduto in questi ultimi giorni. Ci sono anche delle precipitazioni, come ci saranno nelle prossime ore, perché è in arrivo una nuova perturbazione atlantica che sta già coprendo i cieli della nostra regione, ma produrrà dei fenomeni soprattutto sulla Marsica, nell'Aquilano e sulle zone montuose, dove la neve però cadrà a quote piuttosto elevate, perché è previsto un aumento delle temperature in quota, quindi intorno ai 1700-1900 metri, proprio perché è per l'arrivo di queste miti correnti occidentali, che attraverseranno la nostra regione, quindi ci saranno delle precipitazioni, come ho anticipato poc'anzi, fenomeni che a carattere spasso potrebbero interessare anche il settore orientale della nostra regione, ma non si prevedono fenomeni di forte intensità, da stasera e in nottata sono previste delle schierite a partire dal settore occidentale, ma arriveranno nuove perturbazioni, Francesca, e nella giornata di domani un nuovo sistema nuvoloso favorirà degli annuvolamenti, e delle precipitazioni a partire dalla Mastica e dall'Aquilano in estensione verso il settore orientale, ma in serata è previsto un nuovo miglioramento, a cui farà seguito l'arrivo di un nuovo sistema nuvoloso nel corso della giornata di mercoledì, che potrà portare qualche rovescio più intenso, insomma anche sulla nostra regione, ma anche una diminuzione delle temperature. Ecco, da mercoledì le temperature sono previste in diminuzione, e quindi la quota neve si abbasserà intorno ai 1.200-1.400 metri, quindi tornerà la neve sui nostri rilievi. Questo è un classico con le correnti atlantiche, quando ci sono temperature altalenanti, quindi aumenti repentini seguite da diminuzioni, anche piuttosto brusche, soprattutto in quota. Ripeto, la buona notizia, è che c'è e ci sarà ancora un bel rimescolamento di queste masse d'aria nei bassi strati, e la situazione non cambierà almeno fino alla giornata di venerdì, quindi le perturbazioni atlantiche almeno fino alla serata di giovedì, e la prima ora della giornata di venerdì interesseranno la nostra penisola. Saranno seguite poi da un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche proprio nella giornata di venerdì e nella giornata di sabato, perché è prevista una temporanea rimonta dell'anticiclone africano, che dovrebbe garantire ancora una volta un paio di giorni di bel tempo, ma comunque con un'aria decisamente più pulita, Francesca. Giovanni, prima di salutarci, come sempre noi ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo, iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org e ringraziamo Gianni Dario Regia. Questo è il sito ufficiale di Abruzzo Meteo, qui troverete tutte le previsioni e bollettini di Giovanni De Palma e sottolineiamo sulla destra le quattro telecamere sulle quattro province abruzzesi per monitorare in tempo reale quello che succede sul nostro territorio. Suggeriamo anche due profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qua. Troverete tutto quello che è presente nel sito ufficiale, quindi tutti i bollettini aggiornati, le previsioni e anche insomma quello che mette in risalto Giovanni De Palma nel corso della giornata. Suggeriamo il profilo personale di Giovanni, perché qui troverete qualcosina in più, qualche curiosità, come ad esempio la foto scattata alle prime luci dell'alba, questa mattina puntuale come sempre, 6,8 gradi Giovanni? Sì, 6,8 gradi, un valore anche leggermente al di sopra delle medie stagionali, dico purtroppo perché continua ad essere un clima piuttosto mite sulla nostra penisola. Le perturbazioni atlantiche portano a questi repentini aumenti di temperatura, ma che proseguiranno e quindi si alterneranno nel corso dei prossimi giorni, almeno fino alla giornata di venerdì, Francesco. E poi sempre su questa pagina, sul profilo personale, troverete le segnalazioni degli utenti, molto utili per viaggiare informati, molto spesso vengono postati video o anche fatti degli scatti per segnalare quello che succede sul territorio. Ed ecco, insomma, è utilissimo per essere sempre avvisati o anche per avvisare di quello che si trova proprio sulle quattro province abruzzesi. E poi troverete quelli che sono gli strumenti di rilevazione meteo di Giovanni con la spiegazione dettagliata di quella che è il funzionamento e di come si compie. Quindi per gli appassionati meteo. Giovanni, come sempre, io ti ringrazio per il tuo intervento che tornerà puntuale domani mattina sempre alle 7.20. Ti auguro una buona giornata. Grazie, Francesca. Auguro una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie. Grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Ci fermiamo per una piccola pausa di pubblicità e poi la seconda parte della nostra rassegna stampa. Seconda parte della nostra rassegna stampa ora ci spostiamo a Chieti. La casa di riposo a tavola con gli assistiti. Non lasceremo gli anziani senza carne, pesce e uova. A pranzo, nell'ex e-pub in crisi nera, Asle, comuni di Chieti e Pescara non pagano 3 milioni di debiti ma presidente e direttrice rassicurano decine di famiglie. Ed ecco il dettaglio di quello che è stato l'ammontare del debito nel corso degli anni. Si parte dal 2011 con l'Asl di Chieti per 950 mila euro e poi dal 2006 l'Asl di Bari 153 mila euro e infine il 2015 con i comuni di Chieti, Pescara e anche altri comuni 2 milioni di euro e dal 2014 a non pagare sono i comuni di Chieti, Pescara e altri per 90 mila euro. E questa è la protesta dei dipendenti. Di taglio basso si torna a parlare della fusione delle camere di commercio in particolare quella di Chieti-Pescara la fusione della discordia premiera a Chieti Camera di commercio la partita si chiude in 6 mesi ma Pescara finirà in minoranza per 11 a 22 non ci vuole la palla di vetro per capire che Chieti vincerà il derby con Pescara nelle camere di commercio e la partita della fusione si chiuderà in 6 mesi ma lo scenario finale è scontato come la fine di Cristo nel Vangelo se il numero dei consiglieri sarà di 33 come gli anni di Cristo appunto allora la previsione di 22 a 11 per Chieti la fusione delle due camere di commercio del Teatino si farà per dire Roberto Di Vincenzo e del pescarese Daniele Becci a una finale di Coppa dei Campioni visto che le partite IVA sugli spalti cioè le aziende dei territori sono la bellezza di 90 mila e poi andiamo avanti all'Aquila il processo circonvenzioni di incapaci prete raggira un'anziana condannato a 16 mesi aveva estorto con l'inganno 140 mila euro una signora parrocchiana una sua parrocchiana ora deceduta don da Anastasio originario di Civitella dovrà risarcire i familiari dell'87enne e poi un lieve terremoto ammassa ad albe nelle cronache nei guai per il furto in un discount sconta i domiciliari dentro un rimorchio ad Avezzano Carsoli gomme a fuoco sotto un ponte fumo nero il caos sulla 24 guida drogato si schianta e fugge l'Aquila giovane assume cocaina provoca una carambola e poi si consegna le forze dell'ordine andiamo a Teramo dove viene stilato una statistica che dice quello che è la relazione del sangue sulle strade nel 2015 diviso per province gli incidenti all'arme rosso morti più che raddoppiati nove le tragedie nei centri abitati uccisi cinque pedoni e due ciclisti la polstrada mette sotto accusa gli smartphone causano distrazioni fatali questa ovviamente non è notizia del 2015 ad Altavilla oggi funerali del novantenne prima vittima del 2016 ora invece ci spostiamo sulle pagine del messaggero e partiamo dalle cronache sull'Aquila Palazzo Federici via ai lavori rinascerà il cinema imperiale opera da 15,5 milioni di euro su 11 mila metri quadri affidati già nel 2011 alla Teramana Cingoli il finanziamento è arrivato il 24 dicembre con l'inserimento nel 14esimo elenco lo stabile comprende anche lo storico orologio Omega divenuto uno dei simboli del sisma e poi Cordeschi Gran Sasso lungo elenco di errori duri intervento del direttore tecnico del CTGS mancano criteri industriali per lo sviluppo e poi anche qui la carambola provoca incidente e fugge era drogato la CNA serve città dei saperi la ricostruzione non basta questo è l'appello università la rivolta degli studenti sulla sede fantasma in comproprietà col corso per estetisti lettera aperta al rettore d'amico urge decisione definitiva contestati continui spostamenti per tenere lezioni ed esami dal Castello Orzini a liceo a via Pertini ma anche l'amministrazione comunale deve assumersi le sue precise responsabilità e poi sul Mona furgone sfonda il muro dell'ospedale tragedia sforata centro di salute mentale l'asl diffidata a sgomberare siamo a sul Mona Ranalli ha deciso dopo le promesse di passare alle maniere forti bisogna fare spazio alle scuole e poi sulla cronaca di Avezzano Di Pangrazio toglie la delega Presutti Di Pangrazio dichiara tutta la mia stima all'ex assessore ma occorre ricostruire e si parla di rimpastino andiamo a pescare il bungalow al posto delle cabine e il PD si divide sul piano spiaggia oggi in comune si apre il confronto la scelta preoccupa gli albergatori Pagnanelli e Padovano tra i favorevoli e poi Blasioli e Gaspari sul fronte del no di taglio basso l'ACA anticipa la riforma Madia il decreto prevede il fallimento delle partecipate di antipubblici Pescara Parcheggi e Attiva restano invece al sicuro lo sciopero della fame per la grande Pescara abbiamo anche ascoltato l'intervista e parlano i rappresentanti dei radicali abruzzesi chiedendo che venga rispettata la volontà dei cittadini che hanno votato per la fusione dei tre comuni Alessio Di Carlo dei radicali chiede alla regione di completare l'iter approvato con il referendum e poi continuiamo a scorrere le pagine del messaggero a Chieti rifiuti proroga in nuovo bando due isole in città e allora si parla dell'assessore Bevilacqua che indica la rotta per migliorare con il prossimo appalto il sistema di raccolta e smaltimento ricordiamo Chieti ha raggiunto il 65% differenziata tra le città tra le 10 città italiane con il più alta percentuale ma si parla ancora di crescita e poi a Teramo la fiera dell'Epifania beffa per i 200 espositori il maltempo blocca l'afflusso dei visitatori bilancio in chiaroscurio o meglio il Black Friday caos della viabilità nel centro storico gli automobilisti temevano le multe a Torano Nuovo tentano il colpo nella casa del sindaco si parla di furti e poi un pennello naturale blocca l'erosione della spiaggia sud andiamo a leggere la notizia adesso deve essere stabilizzato con fondi regionali creerà ricchezza agli operatori a Giulianova è riuscito l'esperimento del capodanno in mare e poi di taglio basso Brucchi l'asla unica per noi sarebbe una iattura il sindaco convoca un tavolo tecnico con tutti i comuni della provincia D'Alfonso ci sta ripensando e poi sulle cronache di Roseto e Ginoblela di Giuseppe superstar della solidarietà si parla di una cena per raccolta fondi che avverrà domani sera proprio a Roseto apriamo la pagina dello sport si parla di calciomercato la padulla l'uomo dei sogni ho vissuto un grande anno ma so che non posso fermarmi al mercato non penso basta poco per finire nel dimenticatoio l'arrivo in Abruzzo è stata la svolta della mia carriera e se andassimo in A chiederei comunque di restare qui e poi Campitelli e scendiamo in Lega Pro Teramo da quest'anno ripartiremo parla il presidente del Teramo che dice questo è un anno fondamentale per gettare nuovamente le basi del futuro nelle parole del presidente Campitelli c'è il senso del momento che sta vivendo il Teramo il patrone fortemente impegnato anche in questi ultimi giorni nell'interesse nell'intessere i contatti giusti sia sotto il profilo di possibili nuovi nesti societari che sotto quello del rafforzamento della rosa andiamo all'Aquila e peso le trattative ai stand by faremo un ottimo mercato il presidente Corrado Chiodi pur alle prese con un fastidioso infortunio al ginocchio continua a sprizzare ottimismo per quanto concerne le trattative che si aprono ufficialmente oggi la società intenzionata a intervenire in maniera decisa e in giornata ci sarà il vertice tra la proprietà e il direttore sportivo Alessandro Battisti che dovrebbe sancire il là alle operazioni e poi proseguiamo sempre sulla pagina dello sport il lanciano ma Marella il capitano verso l'addio Lascoli ha fatto l'offerta ufficiale alla Virtus quasi impossibile poterlo trattenere a gennaio fino ad oggi aveva sempre rinunciata ogni proposta ma la società deve fare cassa così come con piccolo 235 partite con la maglia del lanciano 20 gol 30 assist la fascia di capitano indossata con onore a testa alta nella buona e nella cattiva sorte un ragazzo semplice ma Marella ma con valori forti che in passato lo hanno portato a rinunciare ad ingaggi faraonici per mantenere fede alla parola data e poi continuiamo a parlare sempre di calciomercato i migliori vanno via sarà dura a risalire questo è l'annuncio dei tifosi ovviamente della Virtus torniamo sulle pagine del centro e andiamo anche qui ad aprire le pagine dedicate allo sport ovviamente le notizie sono proprio quelle del calcio soprattutto del calciomercato abbiamo sentito si avvia fino a fine mese quello che è ovviamente il calciomercato proviamo a vedere se riusciamo a riprendere le pagine dello sport sul centro allora torniamo invece su quelle del messaggero proviamo a leggere quella che è ovviamente l'opinione dei tifosi come detto Marella capitano e anche una lunga carriera nella Virtus Lanciano la notizia è quella dell'addio ed eccole qua le reazioni impazzano sul web i commenti giusto dare una ringiovanita ma la società deve essere chiara ed ecco qua se sul web sono quasi tutti negativi gli interventi sulla rivoluzione annunciata della Virtus Lanciano nelle sedi dei club del tifo organizzato si respira un'area di maggiore fiducia pur nella preoccupazione per un futuro che non appare chiaro certo non siamo tranquilli sottolinea Gabriele Cortese il presidente del club veterani soprattutto perché non viene spiegato con chiarezza cosa in realtà la società voglia fare per il futuro ma a titolo personale ritengo una svecchiata questa squadra andava fatta e allora con lo sport come sempre noi concludiamo la nostra rassegna stampa prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14 e poi successivamente quella delle 19 e quella delle 23 e invece l'appuntamento con la rassegna stampa di TV6 torna domani mattina puntuale alle 7 buona giornata grazie a tutti grazie a tutti